La nonna oggi ha finito il presepe e ha ricevuto un premio. Sì, questo qui l'ha detto che l'aveva già visto il presepe, è venuto su accompagnato dal papà che ha voluto una fotografia per la sua moglie. Finiato oggi dopo il presepe, il corriere ha voluto vedere il presepe. Poi vediamo le forbici, non il coltello, sono centrati. Un pochino di calma, un pochino di calma, non rompere tutto, non rompere tutto, non rompere niente. Piano, piano, piano. Piano, 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 piano. Ce la facciamo? Vediamo qual è? Quasi quasi ce la facciamo. Che cos'è? Quasi quasi ce la facciamo. Eccolo, tagliate le unghie troppo corte. Alla già. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ah, ecco, brava. Guarda, guarda che bella per mettere sul presepe. Ma brava, brava. Oh, gioia. Ma guarda com'è bello, com'è bello nuovo. Meno male, c'è una statuina nuova oggi sul presepe. Grazie, grazie, brava. Hai avuto una bellissima idea, brava. Ma tutti hanno una bellissima idea, sta gente. Tutte, tutte, tutte. Grazie. Ti voglio bene, ti voglio bene. C'è una statuina nuova sul mio presepe. Grazie, grazie. Un bacione forte, come si chiama? È un angioletto. Adesso ti leggo, c'è la lezzerina qua. Un angioletto, guarda. Un angioletto nuovo sulla mia. Ma grazie, grazie, guarda che bello. La metto su. Ne ho ricevuto tre per essere sincera, né? Di angioletti. Guardi là. È vero, sì. Adesso li mettiamo dentro tutti. Tutti angioletti, ma che belli, ma che belli. Grazie. Così il mio presepe diventa grande. Grazie, grazie, grazie.